La Nestor batte con un gol di Mattiasi Sani nell'Olimpia Tirus e resta a più 6 sul Gualdo Casacastalda. C'è da segnalare che Davide Baldoni porta a 586 i minuti di imbattibilità. Partita nel primo tempo abbastanza equilibrata ma secondo tempo tutto di marca azzurra. La squadra di Montecucer ha fatto un gol ma ne poteva fare almeno un altro paio. Nel finale bella reazione nonostante un uomo in meno dell'Olimpia ma Baldoni praticamente non ha mai rischiato nulla. Al 23esimo azione personale di Davide Sisani palla in mezzo ma né Baldacci né Carbonaro riescono ad arrivare in tempo per il tocco che avrebbe significato il gol. Un minuto dopo lunga fuga di Iammè e conclusione una volta arrivata in aria ma Baldoni di piede salva la sua porta. Nel primo tempo sostanzialmente sono queste le uniche azioni da segnalare. Nel secondo tempo al settimo subito il gol Lorenzini è entrato al posto di Scesniac conquista una punizione al limite pennellata di Mattia Sisani e gol che risulterà il gol decisivo per la vittoria della squadra di Montecucco. Al tredicesimo ancora Lorenzini che si produce in un'azione personale entra in aria serve Carbonaro che 40 anticipa di pochissimo. Ventiduesimo punizione di Biviglia colpo di testa di Davide Sisani di poco sopra la traversa. Al ventiquattresimo gran tiro di Biviglia da fuori e volo di 40 per alzare la palla in calcio d'angolo. Poi di azioni pericose non ce ne sono più. La Nestor continua a comandare il gioco. Nel finale come abbiamo già detto la squadra ternana prova a rimontare ma non c'è nulla da fare. Dunque Nestor batte Olimpia 1-0 e Vetta mantenuta con 6 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice. Sì, obiettivamente devo rimproverare poco ai ragazzi perché secondo me abbiamo giocato alla pari e forse mi tengo anche un pochino basso perché abbiamo fatto un primo tempo eccezionale. Purtroppo non abbiamo concretizzato su quella grossa palla che aveva avuto da Gianmè però abbiamo tenuto secondo me il campo benissimo, abbiamo fatto una grandissima prestazione. Sì, ancora è lungo. Siamo contenti della vittoria soprattutto perché abbiamo giocato secondo me con una squadra veramente forte ben messa in campo che il primo tempo onestamente ci ha messo in grossa difficoltà e credo che hanno fatto molto meglio di noi il primo tempo. Poi sono molto contento del secondo tempo perché siamo usciti bene, siamo riusciti a superare la loro linea di centrocampo abbiamo attaccato bene la difesa e credo che poi ci abbiamo avuto diverse occasioni anche per chiudere la partita.